Lo vedeva circondato dal mare, senza navi, né compagni che lo aiutassero a tornare in patria. Intanto pensò altra cosa. Elena versò nel vino che bevevano un farmaco che calmava l'ira e il dolore, oblio di tutte le pene. Tali rimedi sapienti aveva la figlia di Zeus. Quel farmaco gliel'aveva dato Polidamna, l'egiziana. Bevete questo vino e ascoltate. Io vi dirò cose ormai lontane, che possono però aiutarvi a comprendere ciò che è accaduto. Non vi racconterò certo tutte le avventure di Ulisse, ma una sì, una che io sola conosco. Poi Elena disse... Era l'ultimo anno. Dentro la città di Troia, io aspettavo che le armi decidessero quale fine mi sarebbe stata riservata dai vincitori. Ero nel tempio di Apollo, dove Cassandra stava facendo un sacrificio al Dio.